Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro gioco. Continuiamo con Suicoden 5 dove la volta scorsa appunto dovevamo andare a guardare la lista dei partecipanti ai giochi sagri per vedere chi sarà il futuro marito della sorrellina Limsleya. Ma prima di fare ciò ovviamente in questo caso bisogna esplorare, bisogna andare in giro ma facciamo le cose con calma. Altezza principessa Lady Salis, come mai siete tutti qui? Un'emergenza? No, siamo solo venuti a... esatto, siamo venuti a curiosare. Ah, capisco. Non direi semplicemente a curiosare principessa, qui si parla del tuo futuro marito. Ah già, in effetti. Strano fidanzamento, futuro marito, a me sembra ostrogoto. Oh scusa. Beh, come avrei sentito non siamo qui in veste ufficiale, ma possiamo entrare comunque? Certo, prego, entrate pure. Ok. Però prima di fare ciò io mi farei un bel giretto. Allora, il problema è che la telecamera... esatto, non posso allargarla più di così, purtroppo. Sì, purtroppo non possiamo allargare la telecamera perché mi sarebbe piaciuto vedere un po' più... un po' più allargato. Ecco qua, qui abbiamo un forziere con megamedicina. Lì abbiamo altri tipi che parlano. Anche perché credo che nella zona bassa della città io forse non posso neanche andare. Perché qui dovrebbe esserci la zona... vediamo se ci possiamo andare. Esatto. E che dovrebbe esserci la parte bassa, se non sbaglio, della città. Però per il momento non ci possiamo andare. Ovviamente per ora è tutto molto story-driven, essendo comunque ancora all'inizio. E credo che sia anche abbastanza normale. Eh, qui non mi fanno andare. Bene, tutti insieme qui. Che strana coincidenza. Cos'è quella? La lista dei partecipanti ai giochi sacri? Mi scusi, il funzionario che si occupa della lista è riuscito a fare pranzo. Andrò a qualcuno a richiamarlo subito. Può aspettare solo un attimo? Ok, quindi noi adesso dobbiamo aspettare. Poche smancerie, state comodi. Non fate caso, noi eravamo solo di passaggio e riferite così anche agli altri. Non c'è molta gente oggi. Ha sospeso le sedute per i preparativi dei giochi sacri. Credo che la maggior parte dei nobili sia tornata al proprio paese. Praticamente sono rimasti qui soli funzionari. Beh, meglio così. Non è che sia tutto questo divertimento incontrare i senatori. Possiamo far che chiedere a un funzionalista da andarcene. Eh, purtroppo non c'è molto qua al momento. Allora, scendiamo. Non mi ricordo se qua c'erano effettivamente degli altri forzieri. Non c'è nulla di interessante. Queste non si aprono. Eccoci qua. Oh, if it isn't the princess. A most fortuitous meeting. Yes, yes. Oh. Ah, and her royal highness Sialedes. And his royal highness the prince. Oh, and I see Kyle is with you too. Oh, such a pleasure to run into so many people that I usually don't get a chance to see. Oh, yes, indeed. I, Solemn Borros, am a very lucky man today. se lo dicessi. Sì. Oh, scusatevi, signor. Sì. Oh, scusatevi, signor. Sì. 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 Sì, scusatevi. Sì, scusatevi. Sì, signor Borròs, ma hai chanato con te la presa? Cosa negozierebbe un uomo di stature all'onà qui? Il senore è in recesso. Un uomo di stature? Oh no, non, hai davvero davvero apprezzati. Sì, ma è vero che sono stato il presidente della mia squadra, sono meno che un facilitatore di un approccio. E ora che il senore è sapato, da fare un po' di squadra, per fare un po' di cose attenzione di detegare? Uh-huh. Come on dad, hurry up. Let me say hello to the princess too. Ah Yuram, my my, sorry about that son. Greetings everyone, I trust you are all well. I am Yuram Baro, son of the great Salam Baros. Ah fair princess, do you remember me perchance? Uh yes, we met a few times at the sun palace banquets, I think. Oh princess, you do remember me. My my, I am truly the happiest man alive. And I too, have never once, no not for one day, no not even for one moment forgotten how you looked. And now, with the elegant object of my affection standing before me, oh my heart is about to flutter away. Oh princess, you are like a precious gem in the heavens that someone such as I could never ever hope to reach. But please, if you would just permit me to kiss that ever so lovely hand of yours, I... That's more than enough of that. Mia Keys, where'd you come from? Just in time. The only gentlemen allowed to touch the princess are his majesty Farid and his royal highness the prince. If you still insist on doing so, you'd better be prepared for the consequences. Consequences? The waters of the Faitis River are really cold, you know. Eccoci. Ho perso la ragione, ti prego perdonami. Parla dei giochi sacri, ovviamente. È uno dei partecipanti. Esatto. Quindi non è lui che combatterà i giochi sacri, no? Quindi già è... Non lo so, è una cosa un po' vista male questa. Se è una mezza calzetta. Secondo la tradizione si può avere un cavaliere che combatta al proprio posto. Eh, 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 eh. Ecco, un piccolo progetto di vita. Sì, il Kyle, perché giustamente Kyle fa le veci della famiglia Burrows. Si vende un po' troppe confidenze. Se tu riesci a capirlo non ci sono problemi. Cioè, ve lo immaginate lui, no? Capitano dei cavalieri. Che è praticamente un vermicello, no? Anche fisicamente parlando, no? Molto, molto smilzo. Ancora? Devo aspettare? Ma come? Mi ha detto che... Pensavo che dopo sta scena si fosse fatto tutto. Non so se dovevo uscire oppure fare altra cosa. Allora, io non mi ricordavo se è andato qua c'erano altri forzieri, ma credo di no. Ah, niente, non ci possiamo andare. Pensavo di poterci andare e invece nada. Eh, diciamo che sono abbastanza frettoloso per queste fasi di gioco, perché ovviamente queste sono tutte tutorial. E ovviamente è tutto l'inizio un po' più lento, è normale che sia così. Allora, tu cosa mi dicevi? Eh vedi, potremmo fare un giro completo del palazzo del senato. Ma io pensavo che già avessimo finito. Quindi mi sa che c'è qualcun altro che doveva incontrare. Ecco, forse ci siamo. No. Sì, allora devo andare necessariamente da qualche altra parte, solo che al momento non me lo sto ricordando. Vediamo, forse da quel lato. E no, perché qua già ci siamo stati. Ok, finalmente è tornato. Ho semplicemente girato tondo, ho parlato un po' con tutti quanti e quindi bisogna effettivamente perdere del tempo. E adesso finalmente possiamo entrare. Ecco qua, facci vedere la lista. Tra l'altro ragazzi è molto importante il rapporto che abbiamo con la sorella, perché il rapporto che si ha con la sorella influenza anche il finale del gioco. 70 iscritti. Sei famosa, eh principessa? Dovebbe essere attorno a 30. Oh, allora parteciperà anche quello lì. Lady Sialids, tutto a posto? Ho solo trovato un nome che ha fatto riaffiorare i vecchi ricordi. Tutto qui. Giselle Godwin, il figlio del grande e potente Lord Godwin. Oh. Lady Sialids. Il mio ex fidanzato vuole sposare i miei nipoti. Che assurdità. Fidanzato? Ah già, voi non vi ricordate, allora eravate tra ancora piccoli. Cosa? Non lo sapevi nemmeno tu, Leon? È la prima volta che ne sento parlare. Non sono stati 16 anni fa? Sì, ma quelli furono per Ashtat, non per me. Era l'unica in lizza per il trono. Per me nessun gioco. Ah. Ad ogni modo è una storia vecchia e sevolta. Non lasciamoci sconvolgere da grette mosse politiche di otto anni fa. E poi fummo noi ad annullare il matrimonio. Non sarebbe durato. Ho visto Giselle Godwin un paio di volte ai banchetti. Sembrava... Beh, molto meglio di Euron Barrows almeno. Lui e Zia Sialids, eh? Non so cosa tu stia pensando, ma ti dico che non è più importante. Non preoccuparti, ok? Allora, chi è il favorito questa volta? Non saprei dirle, altezza. Se tutto va come vi ho visto, Giselle o Euron. Entrambi faranno combattere per loro dei cavalieri molto forti. A talvolta ci sono persone sconosciute che saltano fuori dal nulla e vincono. Lo scopriremo quando sarà il momento. Ricordi cosa è successo agli ultimi giochi sacri? Tutti pensavano che i finalisti sarebbero stati Godwin e Barrows. E poi, boom, arrivò Ferid. Che ansia, eh, principessa? Non saprei, non mi sento ancora minimamente coinvolta. È come se fosse la fiaba in un libro. Ok. La porteremo subito al Palazzo del Sole. Quindi ancora non è ufficiale la lista, eh? Però già ci sono 70 contendenti che diventeranno 30, probabilmente. E qui si iniziano già a scoprire alcune cose, no? Tipo Sialids, che era fidanzata con Godwin. E' già ora? Principessa dovresti tornare nella tua stanza. E' ora della lezione pomeridiana. Ah, già, è vero. E qui in realtà... Ok, lo farò. Se continuo a studiare duramente, forse diventerò una grande regina come mia madre un giorno. Vorrei rimanere con te, ma il mio dovere di principessa mi chiama. Ti prego, torna da me appena puoi. Ogni secondo che sei via... Su, non fare queste scene. Vi vedrete a cena. Perché fai sempre così, zia? Perché ogni volta devi rovinare l'atmosfera? Dai, mia, kiss. Sì, principessa. A dopo, principe. Ecco, Sialids. Credo che me ne dora anch'io a dormire per un po'. Sogni d'oro, Lady Sialids. Sì, sì, buonanotte. Perfetto, hanno lasciato tutti la squadra, quindi ora siamo da soli. E se non sbaglio adesso possiamo veramente visitare la città. Esatto, cosa vuoi fare ora? Ecco, andare in paese. Ho un'idea. Andiamo a dare a un negozio... Ah, esatto, al negozio di Rune. L'hai sentito dalla proprietaria? Dicono tutti che sia uno schianto. Principe. Eh, gli uomini hanno dei miei cari. Non c'è bisogno che me lo spieghi. E' un passo necessario nella crescita per il principe. Là c'è un taglio, mi arrendo. Ok. Perfetto, andiamo. E se non ricordo male, tra l'altro, la proprietaria del negozio di Rune è una vecchia conoscenza. O comunque è una conoscenza. Che già sappiamo. Se non mi ricordo male. Perché dovrebbe essere lei. Eh sì, io già... Se non mi ricordo male dovrebbe essere lei. Allora. Qui non abbiamo nulla di interessante. Peccato che non c'è la corso. Non mi ricordo se poi si sblocca in futuro magari il poter correre più velocemente. Non ci faccio caso. Allora, intanto andiamoci a prendere i forzieri che ci sono qua in giro. Che è una cosa buona e giusta. Ok, qui non c'era nulla. E cosa è molto importante da fare in questa sezione è anche andare ad alfabbro. Perché abbiamo un fabbro che praticamente porta le nostre armi fino al livello 3. Ed è comunque già una buona mano. Soprattutto col fatto che io non sono riuscito purtroppo a salire di livello con lo scontro di prima perché mi hanno shottato. Cosa alquanto incredibile. Ok, qui c'è l'uscita del castello e non possiamo uscire. Però almeno avere le armi di livello 3 effettivamente mi possono aiutare. Solo che io non mi ricordo dove si trova il fabbro. Non mi ricordo dove si trovava il fabbro. Cioè qui c'è il negozio di armature e il negozio oggetti. Qui dovrebbe esserci il molo. Taverna. Ok, entriamo in taverna pure. Dove non credo che ci sia molto da fare. Io dovevo controllare perché non mi ricordo se c'erano dei forzieri buttati qua. No. Ok. Allora, ho molti ricordi vaghi in realtà di Shikoden V. Specialmente dell'inizio perché comunque l'inizio me lo ricordo veramente poco. Io man mano che andiamo avanti mi ricordo sempre più le cose da fare. La parte iniziale purtroppo la rimuovo spesso e volentieri perché appunto non... L'ho fatta poche volte. Cioè mi ricordo che comunque la parte iniziale l'ho sempre lasciata e poi andavamo spediti altrove. Allora, qui c'è anche la locanda. Ma questa cos'è? Ok, un'altra stanza. C'è un'altra stanza che non mi ricordo se c'erano altre... Altri forzieri. Perché dovrebbero essercene un paio nella città. Solo che però non li ricordo tutti a memoria, ovviamente. Allora, io sto cercando disperatamente il fabbro. Un peccato che non ci sia la mappa che si possa allargare ancora di più o una mappa... E no, perché vedi, questo mi apre... Allora, questa è la zona di allenamento dove appunto si possono apprendere le tecniche e tutto il resto. Che per ora a me sinceramente non mi interessa. Eccolo qua. Qua c'è il fabbro. Quindi facciamo subito sviluppare le nostre armi. Ecco qua. Ecco qua, portiamole a livello 3. Kyle non c'è bisogno che ovviamente lo forgiamo. Però sia Leon che il protagonista sì. No, no, per ora... A parte che non mi bastano i soldi, però... Va bene così. Loro sono importanti perché staranno comunque nel party, quindi li andiamo a potenziare. La zona di allenamento in realtà non mi interessa più di tanto. Allora, il nostro obiettivo è il negozio di rune. Però una piccola esploratuccia qua la facciamo. Perché è giusto che sia così. È assolutamente giusto che sia così. Qui non c'è niente. Va bene. Vi faccio un giro e ci vediamo al negozio di rune. Cosa molto importante che sto facendo nel mentre giro. Sono andato nella zona di scambio, di trading, e ho comprato il sale. Compratene più che potete, quando ovviamente avrete l'occasione, perché vi servirà per un reclutamento in futuro. Quindi iniziamo già a piantare le basi. Eccoci qui al negozio di rune. Quindi andiamo a vedere la proprietaria. C'è qualcuno qui? Avanti, pre... I cavalieri delle regine e il principe. Oh, santo cielo. Ehi, calmati. Dov'è quello schianto di ragazza che lavorava qui? Così? Anche lei, eh? Persino il principe è un cavaliere delle regine. La proprietaria è via oggi. Ah, dai, dici sul serio. Vengono solo per guardare. Ok, a questo punto qui ovviamente abbiamo il classico... Abbiamo il classico, diciamo, negozio di rune. Dove ovviamente al momento i prezzi sono proibitivi, per cui non possiamo fare molto. Allora, io ho trovato... Ecco qua, la bandana che possiamo dare a Leon. E adesso usciamo per sbloccare l'evento del giorno. Ecco qua. Beh, vai all'inferno. Cosa hai detto? Ah, ehi, qui finisce male. Basta. Ok, qui è successo qualcosa. Esatto. Andiamo anche noi. Che succede? Come vedi, è una rissa. Beh, sembrano abbastanza vecchi da saperne qualcosa. Nessuno sparla della regina. Non nel nostro paese. Ti uccideremo. Oh, che paura. Venite pure. Che vi mischiamo le ossa. Allora, almeno combattono per una causa nobile, no? Su altezza, cosa farai? Ecco qua. Interveniamo. Eh, voi chi siete? Che importa? Prendiamoli. Ok, qui il combattimento direi è abbastanza easy, anche perché abbiamo Kyle. Ecco qua. Perfetto. No problem, direi. Così nel frattempo ne approfittiamo e prendiamo un po' di esperienza, che purtroppo l'abbiamo persa la scorsa volta. Niente male Leon, non penserei mica che sono la guardia del corpo del principe solo per i miei occhi luminosi, eh? Principe? Sarebbe lui il vero principe? Oh, finalmente sembra che stia per arrivare alla pattuglia. Ok. Possiamo andare. Aspetta, devi ascoltarmi, non sapevamo che fosse il principe. Va bene, qui ovviamente tutte chiacchiere. Ho scoperto la verità. Pare che quei tipi con le spade fossero ex mercenari di Stormfist. Si sono ubriacate alla taverna e hanno iniziato a sparlare della regina. Ok. Quindi, ordinare amministrazione. Ok, torniamo a casa. Tanto la bella signorina non c'è neanche al negozio di Lune. Ecco qua. Per cui, torniamo all'inizio. Ovviamente raccogliete tutti i forzieri che ci sono in giro. Torniamo all'inizio del castello. Salviamo. E direi che per oggi va bene così. La prossima volta invece continuiamo. E ritorniamo al castello. Anche perché adesso finalmente le cose iniziano a farsi un po' più interessanti. Infatti dovremmo andare a Stormfist. Per, diciamo, guardare lo svolgimento dei giochi. Ma ci saranno anche le prime, diciamo, le prime, le prime, diciamo, rivoluzioni di trama. Ecco. Ci saranno dei piccoli, dei piccoli eventi. Ci saranno dei passaggi che dovremmo fare anche per reclutare alcuni personaggi. Quindi sarà importante fare tutto nel migliore dei modi possibili. Quindi, io salvo. E ci vediamo nella prossima puntata dove finalmente raggiungeremo Stormfist. Bye bye. Ciao.